In queste 24 ore, in questa ventilatoria, abbiamo tante più pagine stranieri, uno arriva dalla non tanto cucina ucraina, l'est è sempre bello puntato. Uno dei tanti in queste 24 ore viene da l'Ukraine, il team Fossa, e Alexei Poncharov è uno dei tanti, che vi spiegherò a tutti gli ucraini e l'Ukraine. Ciao ragazzi, mio nome è Alexei, siamo rappresentati in l'Ukraine, il team è Fossa. Vogliamo ringrazio per il grande evento, siamo molto felice di essere qui e di rappresentare il nostro paese. Now I will speak in Ukrainian to our guys. So, bopsi, ми тут за вас б'ємося, б'ємося, стараємося як можемо, як нам казала одна тетка, батька, я стараюсь. Ми дуже раді тут бути і запрошуємо усіх, усіх українських команд, приймати участь у таких заходах, це дуже класно, дякую вам. Ok, for sure you have to learn English, because the regulation is the language, but we're going to... Aspettiamo tutti gli ucraini, anche quelli, che magari vivrò in Italia. Ciao! 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 Ciao!